A metà giugno la bozza progettuale poi si andrà dritti verso il traguardo, ossia la realizzazione del nuovo hospice. Così si è conclusa la riunione convocata dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal vice sindaco Lucia Tanti, che ha visto la partecipazione dei massimi vertici dell'Asla Toscana Sud-Est assieme ai consiglieri regionali, a capogruppi di maggioranza ed opposizione in consiglio comunale, sindacati e calcit. Questa è una battaglia, mi verrebbe da dire, di tutta la città, dove non ci sono differenziazioni, dove c'è una voce unica che dice un'unica cosa, cioè che questa città si merita immediatamente il nuovo hospice e il nuovo hospice deve essere in una delle palazzine dell'Asla intorno all'ospedale San Donato, come primo elemento di quella che abbiamo definito la cittadella della salute, che vedrà una pluralità di servizi. Si parte però ora, si parte con l'ospice e si parte lì. Il cronoprogramma sarebbe dunque già in parte definito. A fine giugno il direttore generale presenterà la bozza di progetto per il nuovo hospice in zona San Donato, mentre il 27 maggio ci sarà un nuovo incontro per valutare la soluzione temporanea e per definire la tempistica dei lavori per la seconda casa della salute al baldaccio. Qui si tratta, diciamo, del momento più critico della vita delle persone. Chiaramente trascorrerlo o a casa con l'assistenza domiciliare, però ovviamente seguito giorno, notte e domenica, o in un ambiente come l'ospice per chi non può essere seguito a casa, io credo che sia veramente una delle migliori attenzioni che possiamo dare poi alla nostra vita.